Se facciamo domande alle carte e le carte ci rispondono, significa che la risposta alle nostre domande è nelle carte? O che la risposta può leggerla solo chi legge le carte? E quindi, si può anche sbagliare a leggere la risposta? E che cosa succede se non leggo bene le carte, se leggo la risposta sbagliata? Possono sembrare domande banali o magari inutili, ma sono dubbi che passano realmente per la testa a chi maneggia le carte, soprattutto i primi tempi. Quindi oggi parliamo di domande, di risposte, di aspettative, di ansia da prestazione e di potere. Io il caffè oggi me lo faccio doppio, che serve? Sono Valentina, la musifabolista, e benvenuti alle carte parlanti. Qui parliamo di tarocchi e inner storytelling. Per favore, commentiamo responsabilmente e rispettiamo ciascun punto di vista. Il tema della risposta è un po' spinoso da affrontare, perché nella mente di molte persone, la risposta è un po' quel momento in cui si scopre se le carte funzionano davvero oppure no. Per comodità parliamo un attimo soltanto dal punto di vista di chi legge le carte, quindi di chi quella risposta dovrebbe trovarla, perché è ovvio, il consultante fa una domanda e quindi si aspetta una risposta. Giusto? Giusto solo fino ad un certo punto, secondo me. Anzi, giusto solo fino ad una linea di confine che ci serve di tracciare. Noi che abbiamo le carte in mano, da quale presupposto partiamo? Leggiamo per indovinare il futuro o per indagare il presente e le nostre profondità? Questa differenza è incredibilmente importante per affrontare il concetto di risposta e di potere e spesso non è davvero chiara anche alla cartomante o alla tarologa. Capita davvero spesso di sentire frasi del tipo «Ma no, nei tarocchi non si legge mica il futuro!» Però poi in fase di lettura ecco che l'elemento predittivo arriva inevitabilmente e scatta la seconda frase di rito «È certo che poi ci sono queste coincidenze che non si possono proprio spiegare e in fondo ti fanno venire un po' il dubbio». Ecco, questa è la situazione in cui si trovano molte persone che leggono le carte. C'è un po' quest'atmosfera del ci credo, non ci credo oppure non ci credo ma ci vorrei credere che, attenzione, non sto affatto criticando io stessa ci sono stata dentro in pieno come ti dico nel trailer e forse ci sono ancora o forse non ci sono beh tanto io sono uno stregatto qui quindi non si parla di me ma torniamo a noi perché tanto le risposte non ce le ha nessuno. Quando scegliamo di leggere le carte qual è il nostro reale obiettivo? seguono domande molto dirette e ti avviso Il nostro obiettivo è quello di dare una soluzione? Vogliamo indovinare un futuro possibile? Stiamo provando a facilitare un processo di consapevolezza? Cerchiamo di avere la conferma che nelle carte ci sono davvero le risposte? Tentiamo di essere di sostegno in una fase di indagine interiore altrui? Traiamo soddisfazione dal sentirci potenti perché abbiamo le carte in mano? Lo so, lo so, sono domande antipatiche per qualcuno ma per me sono necessarie. Volendo potremmo ridurre tutto ad una sola domanda leggiamo per l'altro o leggiamo per noi? Ma non credo che in questo caso una risposta escluda l'altra come credo che non possa esserci una sola risposta alle domande di poco fa. Se hai voglia di dirmi la tua scrivimi ovviamente. Penso che il concetto portante qui sia il potere il rapporto che abbiamo con il potere e dove pensiamo che il potere risieda. E anche in questo caso ragioniamo insieme senza la pretesa di avere appunto risposte. Allora, spero che il tuo caffè sia doppio quanto il mio. Pensare che le carte intese come oggetto abbiano in loro il potere di vedere, indovinare, descrivere il futuro significa accettare il fatto che questo futuro è già scritto in qualche modo. Allora possiamo dirci No, le carte ti dicono quello che succederà se non farai la tal cosa o se nulla accade. Ma se ci ragioniamo un attimo come può nulla accadere? È impossibile che nulla accada. Quindi, se il potere è nelle carte sono loro a doverci dire cosa succederà o non succederà? E quello che le carte mi dicono quanto influenzerà la mia scelta? Il potere di vedere e cambiare le cose in quest'ottica è nelle carte. Un altro punto di vista è che il potere o le risposte sia nelle mani e nella mente di chi legge le carte. Questo significa accettare il fatto che esiste qualcuno con lo straordinario dono di poter indovinare il futuro attraverso uno strumento divinatorio tarocchi o meno. Sappiamo che la divinazione fa parte del nostro folklore popolare e della storia da sempre. Ma in questa visione il potere delle nostre decisioni arriverà dalle parole di queste persone? Dalle risposte che magicamente trarranno dalle carte? Anche in questo caso parliamo quindi di un futuro già scritto e a cambiare è solo chi ci racconta questo futuro. In quest'ottica il potere di vedere cambiare le cose qui è nella persona che ci legge le carte o ad esempio i fondi di caffè. Proseguiamo con i punti di vista e arriviamo ad un metodo di lettura che non trova risposte ma che pone domande. Che è l'ultima cosa che ti aspetti da uno che ti deve leggere le carte di solito ma stiamo in questa prospettiva. Ci sediamo davanti alle carte e attraverso una serie di domande finiamo per vedere la situazione da punti di vista diversi e magari inaspettati. Tra un dialogo e un ragionamento riflettiamo e poi prendiamo decisioni. Ciò che ci ha portato a farlo qui in questo caso non è stata una risposta o una sentenza che è stata letta nelle carte bensì un ragionamento fatto sulla base degli stimoli che arrivano dalle carte ed eventualmente da chi ce le legge. E allora qui il potere dove sta? In quest'ottica il potere non è più nell'oggetto o nel soggetto esterno a noi ma nella nostra presa di consapevolezza certo ovvio facilitato dalla persona che pone le domande basandosi sulle carte. So che possono sembrare dei ragionamenti complessi ma mi farebbe davvero piacere sapere cosa ne pensi. In ultima battuta pensare di dover trovare una risposta o peggio una soluzione nelle carte non è un carico di responsabilità e di ansia notevole da mettersi sulle spalle? Cioè quanta agitazione può costare l'idea di dover fare una lettura che azzecchi la risposta? E se quindi si sbaglia quella risposta cosa significa? Che non siamo abbastanza bravi come lettori? Che non abbiamo dei presunti doni? Che non abbiamo detto all'altro ciò che voleva sentirsi dire? Come vedi anche qui c'è un ventaglio di argomenti degni del vaso di Pandora che probabilmente ormai ho già scoperchiato ma che non è mia intenzione scoperchiare troppo a lungo quindi chiudiamolo. Il punto non è trovare chi fa la cosa giusta e chi fa la cosa sbagliata. Il punto qui è ragionare su cosa ci muove quando scegliamo di leggere le carte e su cosa ci muove quando scegliamo di farci leggere le carte. Il bisogno di aiutare o di essere aiutati è quella cosa meravigliosa che in fondo se ci pensi muove tutto il mondo quindi è del tutto normale che l'ausilio delle carte diventi una forma di relazione d'aiuto ma ciò che penso sia importante discutere ancor più del fatto che le carte vedano o non vedano il futuro è il rapporto che abbiamo con il potere e con la responsabilità individuale con la paura e con il coraggio di guardarci dentro che è appunto l'obiettivo dell'inner storytelling poi tutto ciò che riguarda il modo in cui vogliamo vivere la spiritualità la magia la religione eccetera è strettamente personale e come tale legittimo trovo sia molto più utile riflettere sui concetti di responsabilità e consapevolezza piuttosto che sulla natura magica o meno delle carte perché non credo sia costruttivo arrivare a definire chi ha torto o chi ha ragione anzi nelle narrazioni moderne sui tarocchi troppo spesso si dà per scontato che credere nel potere magico delle carte significhi necessariamente truffare la gente ma non è così anzi in tutta sincerità penso che quelli che truffano non credono che le carte siano strumenti divinatori ma li usano proprio solo per costruire l'impianto di menzogne da cui poi operano e al contempo non è detto che chi usa i tarocchi facendo domande non sia un drago della manipolazione e quindi abbia delle cattive intenzioni anche qui il potere è nelle singole persone ciascuna con la propria responsabilità dipende sempre dal rapporto che abbiamo con il potere personale come scegliamo di agirlo dove o a chi scegliamo di delegarlo e quanto ne siamo consapevoli una lettura divinatoria può essere utile o distruttiva tanto quanto una lettura non divinatoria quindi di tipo introspettivo non cambia se a farci le carte è Chantal 29 o un coach in giacca e cravatta perché ciò che conta non è il modo in cui viviamo le carte ma il modo in cui viviamo noi stessi ti consiglio due libri oggi uno è La via dei tarocchi di Aleandro Chodoroschi libro che non può mancare nella libreria degli appassionati e l'altro è Conosci te stesso con i tarocchi di Ilaria Boero che tra l'altro è un libro ricchissimo di curiosità sui tarocchi marsigliesi lo confesso ho un po' il timore dei commenti che vedrò sotto questo episodio perché so che ho posto alcune domande molto dirette e che l'argomento appunto non si può esaurire in pochi minuti di podcast ma ho pensato che potesse essere utile aprire un dialogo a riguardo il mio caffè doppio è finito il tuo si è raffreddato fammi sapere ci sentiamo al prossimo episodio ciao le carte parlanti è un podcast che parla di tarocchi e inner storytelling ricerche testi registrazione voce editing e sound design a cura di Valentina Ferraro la musifabolista scrivimi a info chiocciola la musifabolista punto com oppure mi trovi sul mio sito la musifabolista punto com grazie